E ora ci spostiamo a Mottola per la sagra del baccalà e della focaccia ripiena. Sentiamo Fabrizio Caffaro. Una epifania all'insegna del gusto nel centro storico di Mottola, la sagra della focaccia ripiena e del baccalà. Due prodotti diversi, presidente, però il gusto è sempre da valorizzare e da diffondere a tutte le persone. Certo, noi infatti stiamo facendo queste sagre proprio per ricordare ai giovani quello che era anni fa, cioè in buona sostanza queste abitudini si erano perse e noi quello che facciamo come prologo è rivalutare queste abitudini, e queste usanze, queste cose antiche. Non solo. Ma siccome noi poi tra l'altro come prologo abbiamo a cuore il territorio e quindi dobbiamo cercare di promuovere quanto più il territorio. Mottola è un paese molto vicino a Taranto dove praticamente ci sono i pescatori, quindi il baccalà non ci sta male, ritengo, ma principalmente è per ricordare le vecchie abitudini. Grazie. Grazie.